buon pomeriggio care amiche e cari amici buon pomeriggio non mi piace mai essere il grillo parlante il grillo parlante dava le sue verità il grillo parlante ammoniva Pinocchio fin quando Pinocchio si è stancato e gli ha tirato una martellata che l'ha fatto spiaccicare al muro spero che anche voi non mi tiriate una martellata per spiaccicarmi al muro ma la notizia non è piacevole intanto vi invito sempre a iscrivervi al mio canale youtube ad attivare la campanella a mettere i vostri like a scaricare dal link in descrizione l'applicazione numero 10 ma vado a raccontarvi cosa è successo nelle ultime ore allora ieri sera un amico della mia chat fatta di grandi professionisti ma soprattutto di grandi vecchi cuori rossoneri mi dice attenzione un mio conoscente mi dice che sportiello si è fatto male un problema muscolare al polpaccio allora io lo chiamo subito e chiedo scusa ma è confermato adesso mi informo però non ho notizie dopo mi chiamano non riesco a parlare più col mio amico che mi ha dato questa notizia allora se voi siete attenti nel mio video di questa mattina io ho detto e importa dovevo dire gioca sportiello invece ho detto dovrebbe giocare sportiello perché mi ero un pochino allarmato e ho detto stiamo dalla parte della ragione questa mattina ho chiamato un amico e gli ho detto visto che tu magari puoi essere più informato di me prova a verificare questa notizia otto volte su dieci sono dei rumors delle sparate delle fake che arrivano improvvisamente figlie del nulla mio amico si è informato e mi ha detto no è proprio vero dieci minuti fa me l'ha confermato e ecco perché sono subito uscito con instagram e tiktok prima che con il video e quindi signori contro la juventus non giocherà menian perché squalificato non giocherà sportiello perché infortunato e giocherà antonio mirante antonio mirante che festeggia quest'anno i vent'anni di calcio professionistico 40 anni mi sembra che abbia e sarà lui a difendere la porta del milan non è non è stato le sosse della nazionale mirante con la nazionale scusate sportiello con la nazionale non c'entra veramente nulla ma il periodo della sosta anche nella scorsa stagione il a settembre del duemila e ventidue problema con megnano passo un anno e un mese non c'entra la non c'entra la nazionale le nazionali ma periodo della sosta si fa male sportiello e non sembra neanche una cosa tanto leggera non sembra una cosa tanto leggera perché quando si tratta di polpaccio già di per sé è una brutta bestia a guarire serve tempo e serve e serve ovviamente pazienza per la famosa frase di dottor tavana chi vuole andare in fretta deve andare piano dunque contro il contro il la juventus mirante primo portiere la ponava secondo portiere e vediamo se ci sarà mi sembra bertaccioni portiere della primavera o vediamo chi e questi sono questi sono questi sono signori eh abbiamo detto che il milano è molto fortunato perché non gioca danilo perché forse non gioca chiesa milano è molto fortunato perché non gioca osimen nel napoli l'altra settimana e subito tutte queste fortune di tutti questi oh che fortuna che fortuna c'è capitato già il megnante oernandez già e poi pam è arrivata anche questa tegolona del portiere ora facciamo il tifo per mirante perché se gioca mirante non è che il milano gioca con la porta vuota giochiamo 10 contro 11 gioca mirante e ci auguriamo che mirante che chiaramente non avrà il cimento agonistico nelle gambe negli occhi però è un ragazzo molto serio è un ragazzo molto esperto non certamente non si farà emozionare e il milan come l'anno scorso con tatarusano che ci ha portato anche se la gente non vuole sentire dire che ci ha portato e nei quarti di finale di champions league perché contro il tottenham non ho giocato né voi né io ma lui adesso speriamo che mirante ci regale una bella prestazione contro la juventus e contro il paris saint germain rientra megnan e dobbiamo tenercelo stretto perché ripeto credo che per sportiello non sia una cosa così banale purtroppo purtroppo quindi questa la situazione non simpatica di oggi dopo la notizia ieri di ciucueze che il milan perde anche questo per un mese fa parte delle stagioni la stagione può attraversare degli alti e bassi per quello che riguarda gli infortuni bisogna essere fortunati ad affrontare le squadre ad essere sempre al completo poi quando le squadre avversarie magari hanno qualche assenza possiamo dire è una fortuna come una sfortuna non affrontarle per il milan le squadre al completo a come come milan con tutti i suoi migliori pioli è abituato a superare questi ostacoli e adesso vedremo un problema in più per il milan ripeto perché è un portiere che ultimamente non ha giocato sportiello a qualche partita nelle gambe ma di mirante ricordiamo solo un amichevole della scorsa estate e questo è il primo tema direi il tema principale oggi allenamento e capiremo se il milan per il resto metterà florenzi a sinistra e teo e scusate vista l'assenza di teo e calabria destra con ciao e tomori dovrebbe esserci visto che l'oftus chic non sta ancora benissimo vediamo se oggi riusciremo a recuperarlo ma dal primo minuto non mi sembra tanto facile vediamo e quindi Adli o Krunic centrali a meno che faccia la stessa formazione di Dormund con Musa con Pobega e con Reinders io mi auguro che ci sia fiducia in Adli io sapete che sono un adlista con Adli con a sinistra Reinders a destra Musa formazione più logica se l'oftus non ce la potrà fare e Pulisic là davanti parlavo oggi con un collega Pulisic con Leao Giroud ma per dare alternative a Pulisic per dare un'alternativa perché non le può giocare tutti lui abbiamo riflettuto potrebbe esserci Luca Romero in un certo tipo di partite però attenzione perché potrebbe una volta recuperato l'oftus chic in quella posizione potrebbe giocare lo stesso Musa quindi stiamo parlando adesso del futuro non certo contro la Juventus ma potrebbe essere una soluzione quella di Musa perché ha la gamba per giocare un buon piede e una grande personalità e chiudo con una cosa tutta da ridere non c'è niente da ridere avete ragione scusate però voleva essere il titolo di questo mio video se non ci fosse stata la Tegoluna Sportiello perché ieri dall'Inghilterra è arrivata una voce che io vi riferisco ma la riferisco e già sta lì il Milan io non so quelli che mettono in giro queste notizie perché non studiano sul Bignami la storia del fondo Elliot e la storia dei successori cioè di Redbird e prima di dire queste cose vanno a capire il non-sense l'assurdità di certe notizie perché bisogna studiare anche un po' la storia delle squadre e delle proprietà la storia anche recente perché dall'Inghilterra è arrivata questa voce McGuire che è costato 80 milioni ed è nato al Manchester United il Milan sarebbe interessato a McGuire perché vorrebbe ripetere la stessa strada della Roma con Smalling è una cosa senza senso totalmente perché almeno così sembra sarei sorpreso perché il discorso riguardante McGuire ogni tanto arrivano le notifiche che mi distraggono è un giocatore che è costato 80 milioni di euro attenzione scadenza 2025 e poi mi sembra che costi a livello di ingaggio dai 6 agli 8 milioni di euro d'accordo il decreto crescita ma sono 6-8 milioni di euro una cosa totalmente priva di senso priva di senso quindi è uscita questa notizia mentre sono contento e faccio un piccolo accenno perché non ne volete più sentire parlare avete ragione il Newcastle attende attende Tonali quindi giocherà il Newcastle è vicino al ragazzo come intelligentemente la Juventus è vicino a Fagioli quindi le notizie che parlano di un Newcastle indignato un Newcastle contro Tonali non risultano vere e quindi Newcastle aspetta il ragazzo poi vediamo se per quello che riguarda le cose pratiche a livello di economico stipendio se vi era confermato o meno lì non lo so non ho idea però sono contento perché almeno in questo senso il Newcastle è vicino a un ragazzo oggi in grande grandissima difficoltà non può esservi piaciuto questo video mettete il vostro like perché vi ho dato almeno la notizia anche se non piacevole e se vi è piaciuto questo video ripeto iscrivetevi al mio canale YouTube mettete il vostro like però non ci voleva però giochi in Milano non giochi in Dieci in porta c'è Antonio Mirante e noi siamo tutti vicini ad Antonio Mirante forza Antonio Mirante